Ciao a tutti gli amici di Anagna.com, volevo invitarvi sabato 23 aprile al concerto che farò ad Anagni, sarà un live di circa tre ore dove canterò le canzoni del nuovo disco, nuovo controllo in il mondiale, ma anche le canzoni del passato. Le informazioni le trovate nella copertina della mia pagina Facebook, c'è un numero, potete chiamarlo e prenotare sia la cena che il concerto, oppure soltanto il concerto, che faremo con la band all'aperto e se pioverà invece c'è la possibilità appunto di spostarci dentro al chiuso. Volevo invitare le persone di Anagni, ma anche di Fiuggi, di Ferentino, di Paliano, di Serrone, di Acuto, di Piglio, di Sgurgola, di Morolo, di Torrecaietani, Trivigliano, Colleferro, Valmontone, insomma tutti i paesi vicino ad Anagni, Cistena Latina, Latina, Frosinone, perché no? Sarà una serata ricca di musica, tra amore, sociale, ironia, tutto in chiave di festa e in chiave di pop e roll. Insomma, ci divertiremo sabato 23 aprile. Grazie, ciao.